Proseguono in maniera serrata le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto sabato notte sulla SS-19, nel quale hanno perso la vita un 17enne e un 18enne dieboli. I carabinieri della locale Compagnia, guidati dal capitano Luca Geminale, hanno interrogato molte persone ed annunciato che saranno acquisite le registrazioni di tutte le telefonate effettuate al 118 e alle centrali delle forze di polizia. Saranno esaminate inoltre le eventuali scatole nere ed i dati del GPS dei veicoli. La salma del giovane che conduceva l'auto sarà sottoposta ad esame autoptico, mentre la salma dell'altro giovane è stata liberata e restituita alla famiglia. Quello di sabato notte è solo l'ultimo di una lunga serie di incidenti avvenuti sulla SS-19, la cui pericolosità, legata in primis alla mancanza di illuminazione, è stata segnalata in più di un'occasione da automobilisti ed associazioni del territorio.